Perché state scioperando? Per essere riconosciuti come lavoratori, perché noi siamo ASU, ex LSU, e non abbiamo nessun contratto di lavoro. Lavoriamo a supporto dei dipendenti di ruolo, abbiamo acquisito una buona professionalità nel tempo, perché siamo utilizzati da circa dieci anni in questo ente, e quindi desideriamo essere riconosciuti come lavoratori. Quali siamo? Ma a chi lo chiedete? Al Comune di Porto in Belocle o alla Regione? Allora, lo chiediamo alla Regione siciliana, perché lo scioper, infatti, è a livello regionale. Lo chiediamo, l'abbiamo chiesto anche la nostra sindaca, che è stata molto... ha speso anche delle buone parole per noi, perché lei conosce il nostro valore quotidiano, perché noi siamo 16 persone utilizzate in vari uffici, ognuno, voglio dire, con delle competenze, con delle proprie competenze. Allora, io sono all'ufficio Anagrafe e mi occupo di certificazione, certificazione storica, o voglio dire di posta elettronica, ho colleghi, altri colleghi utilizzati nei servizi sociali, nei tributi, in ragioneria, all'ufficio Vigili Urbani, alla Torre Carlo V, non so se dimentico qualcuno, comunque siamo all'ufficio Protocollo, siamo utilizzati in tutti gli uffici comunali. Ma perché avete scelto di scioperare qui al Comune e non sotto il Palazzo della Regione? Perché noi già abbiamo provato questa forma di protesta, ma non abbiamo avuto un esito molto positivo. Adesso stiamo provando proprio a scioperare in un modo personale, a far sentire un po', voglio dire, fare capire il nostro valore negli uffici. E quindi abbiamo scelto un tipo di protesta nel posto di lavoro. Grazie a tutti.